Si chiama I giovedì nel piatto, come difendersi dalla cattiva comunicazione sugli alimenti, guadagnando in salute e spesa. Ed è un ciclo di incontri mensili organizzati dall'Accademia Nazionale di Agricoltura in collaborazione con Rotary Club Bologna e con l'Ordine dei Farmacisti. L'idea è dare risposta alle tante domande che quotidianamente tutti si pongono quando si trovano a fare la spesa, ma non solo. È una conferenza legata al problema della necessità alimentare degli elementi nutritivi in funzione dell'età. Quindi l'abbiamo chiamata quando è troppo e quando è troppo poco, la corretta alimentazione nell'età dello sviluppo. Perché troppo spesso si seguono delle mode, oggi abbiamo la moda vegana o altre mode, dove soprattutto un organismo che sta crescendo, che ha necessità di proteine, di glucidi e di lipidi, o ottiene troppo di uno di questi componenti o troppo poco di qualcun'altra. E quindi si crea dei disequilibri che poi costeranno nella vita alla persona, ahimè, ma anche alla società. Gli appuntamenti si tengono nella sede dell'Ordine dei Farmacisti di Bologna. È nella natura del farmacista il consiglio al cittadino, ed è nel codice deontologico del farmacista, dire, informare il cittadino su questi stili di vita e l'uso dei medicinali meno possibile, perché con normali stili di vita si può anche risparmiare, questo per il Servizio Sanitario Nazionale, dovrebbe essere una risorsa, perché si potrebbe risparmiare medicinali a IOSA, proprio con corretti stili di vita.